Ho convocato questa conferenza stampa per puntualizzare alcune questioni relativamente alla vicenda che in questi giorni sta interessando un po' la politica lucetina, cioè l'incatenamento del sindaco davanti al tribunale, alla sede dell'ex tribunale. Premetto subito che non entrerò nel merito della vicenda penale, rispetto alla quale ho già augurato al primo cittadino di venire fuori nella maniera più dignitosa e pulita possibile perché personalmente non amo spostare vicende politiche e la discussione politica in ambito penale, anche per la professione che faccio, so quali sono le conseguenze anche dal punto di vista personale che queste vicende hanno, per cui non voglio entrare nel merito del capo diputazione, è una questione che attiene alla procura della Repubblica e alla volontà giudiziaria per cui non mi interessa. Quello che mi interessa però è affrontare la questione politico-amministrativa che riguarda la sede dell'ex tribunale, perché noi non dobbiamo dimenticare che il sindaco si è incatenato dinanzi alla sede del Palazzo di Giustizia prima che gli arrivasse l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Quindi era una battaglia che aveva già una sua finalità che io personalmente non ho ben capito ma che intendo appunto affrontare. Ho ascoltato ovviamente la conferenza stampa del sindaco e devo dire che l'ho trovata sinceramente piuttosto imprecisa in alcuni punti. Soprattutto il sindaco che giustamente si difende dalla imputazione penale, comincia a farlo anche per quel coni in basmedia, a mio avviso salta alcuni passaggi di questa storia. Lui afferma con una dichiarazione anche efficace che siccome il tribunale ci è stato tolto a settembre del 2013, da quel momento la gestione o gli oneri connessi alla ristrutturazione dello stabile sarebbero passati nelle mani del tribunale di Foggia, perché appunto a lucere il tribunale non esisteva più. Questa affermazione a mio avviso è totalmente infondata, perché anche prima noi non avevamo la detenzione dello stabile. Anche prima chi gestiva materialmente i locali, le strutture, eccetera, era il Ministero di Giustizia, che gli aveva appunto allocato il Tribunale di Lucera. Soppresso il Tribunale di Lucera, il Ministero di Giustizia ha semplicemente detto che per 5 anni la disponibilità di quello stabile sarebbe passata nelle mani del Tribunale di Foggia. Ma questo da un punto di vista giuridico, quanto agli oneri connessi in capo a proprietà, cioè al comune di Lucera, a mio avviso non cambia nulla. E del resto ci sono state delle situazioni che comprovano anche quanto al comportamento dell'amministrazione quanto io vado affermando. Perché la prima diffida, come il Sindaco ha anche precisato, lui l'ha ricevuta a luglio del 2014, in pochi mesi dopo il suo insediamento. Ma ce n'è un'altra, che a mio avviso è fondamentale, ed è quella della Commissione di Manutenzione del circondario di Foggia, che si è tenuta e si è celebrata il 21 aprile del 2015. In questa commissione c'è la presenza del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, di alcuni funzionari e dei sindaci dei comuni che sono interessati dalla proprietà appunto degli uffici giudiziari, in questo caso ovviamente il Sindaco del Comune di Lucera. La Commissione all'unanimità deliberò in quella sede di diffidare il Sindaco del Comune di Lucera a porre in essere entro 60 giorni ogni intervento urgente per la messa in sicurezza delle immobili, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'utenza che accede quotidianamente all'ufficio giudiziario, sede della sezione stralcio del Tribunale di Foggia, sito in Lucera, alla piazza dei Tribunali. Delibera altresì che decorso inutilmente il termine di 60 giorni della notifica della presente deliberazione vedrà inoltrata appunto apposita notizia di reato alla Procuratore della Repubblica ex articolo 228. Non dimentichiamo infatti che all'epoca il Tribunale, sebbene soppresso, era ancora funzionante, si celebravano gli ultimi processi, quelli che erano rimasti incardinati qui a Lucera. Quindi c'era un accesso quotidiano di avvocati, di magistrati, di personale di cance e deriva, di utenza varia, di vario tipo. E infatti il Sindaco in quella sede, intervenuto alle 15.32, recita testualmente il verbale, dichiara, dopo essere stato reso edotto della diffida, chiede di poter utilizzare l'immobile, almeno in parte, sede della sezione stralcio, per allocare l'ufficio del giudice di pace. Ciò consentirebbe di liberare l'attuale immobile, sede del giudice di pace, per destinarli agli uffici comunali che attualmente insistono presso i mobili in locazione. Il risparmio, seguite bene questa cosa, delle spese per i fitti passivi, verrebbe reimpiegato per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile sede del soppresso Tribunale. Quindi il Sindaco, che oggi dice che questi oneri non gli competono, ha dichiarato dinanzi all'autorità giudiziaria tutt'altro, con un verbale che egli stesso ha sottoscritto e che gli è stato ovviamente consegnato. Questa diffida è stata notificata al Comune, rica la data di protocollo 5 maggio del 2015, non so se riuscite a leggerla, 5 maggio del 2015. Questo è un passaggio fondamentale. Perché dico questo? Perché se il Sindaco, come afferma oggi, avesse ritenuto che non avesse l'onere di sombarcarsi i posti e la strutturazione dell'immobile e per questi interventi di cui era diffida, avrebbe già dovuto, a mio avviso, dichiararlo in questa sede. Ma quando anche fosse stato colto di sprovvista in questa sede, aveva la possibilità di fare ciò che un amministratore deve fare, e cioè impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria questo che, contrariamente a quanto gli ho sentito affermare, è un atto amministrativo a tutti gli effetti. Questo atto andava, a mio avviso, impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria, alla quale avrebbe dovuto dire quello che oggi racconta nella conferenza stampa. Cioè io non ho più la disponibilità, l'immobile non è più mio, o meglio, non è più il mio possesso, non c'è più il Tribunale, i lavori non li voglio fare. Avrebbe anche voluto dire quello che afferma continuamente, cioè che non c'erano soldi. Ecco io al suo posto, di fronte a una situazione del genere, se non mi fossi voluto sopparcare di responsabilità, avrei impugnato l'atto. Magari rappresentando all'autorità giudiziaria che il Comune di Lucera era in predissesto e quindi aveva i capitoli di bilancio tutti impegnati sulla scorta del piano che era stato presentato nella Corte dei Conti e rispetto ai quali non poteva più toccare nulla. Magari avrebbe ottenuto una sospensione di questo provvedimento e il discorso oggi sarebbe diverso. Tutto questo non è avvenuto e secondo me non è avvenuto perché il Sindaco sapeva perfettamente di essere responsabile in quanto legale rappresentante del Comune della esecuzione di lavori che non sono lavori di ordinare a manutenzione. Oggi c'è necessità anche di quelli, ma all'epoca chi frequentava il Tribunale come me sapeva perfettamente che pioveva l'acqua quando appunto vi erano delle precipitazioni abbondanti, sulle scale entrava dal tetto, cioè qui non era questione di piccioni morti che avevano occluso i proviali. Qui il problema era ben più serio, è un problema strutturale che da che mondo è mondo compite al proprietario del mondo e non è cambiato nulla, anche con il decreto, con il provvedimento a cui fa riferimento il Sindaco, la legge finanziaria. È vero, è cambiato il regime nel senso che oggi la manutenzione ordinaria e tutte le altre spese competono al Ministero, mentre prima venivano anticipate dal Comune che aveva in cambio dei canoni. Oggi questo non funziona più, è il Ministero che si subbarca, ma parliamo delle spese per il funzionamento ordinario del Tribunale e per la manutenzione ordinaria. Non si può pensare che il Ministero intervenga ristrutturando il mobile. Io vedo che il Sindaco è andato in confusione, non lo so, sarà la notifica dell'avviso, ripeto, che sono situazioni che creano sicuramente apprezzione, perché oggi dichiara su Facebook mi interrompo la protesta, quindi tolgo le catene, lavorerò per allocare in quella sede i locali del giudice di pace e posta una comunicazione del 10 di luglio del 2017, cioè quindi di quasi un anno fa, in cui rimangiandosi di fatto tutto quello che ha affermato nella conferenza stampa, cioè che il Comune non avesse l'obbligo di pagare quegli importi, dice al Ministero, per il tramite del Tribunale, guardate che io sono disponibile a stanziare la somma complessiva di un milione e chiede al Ministero di compartecipare, cioè parla quindi di uno stanziamento. Ora, io dico, sarò io forse che non capisco, ma a me pare così evidente, se io sostengo di non essere tenuto a pagare determinati lavori, per quale motivo stanzio, oltre a tutto quello che ho detto prima, stanzio un milione di euro, li tolgo dal bilancio comunale e li metto a disposizione. Io sono l'unico a vedere in questo comportamento una certa contraddittorietà, me non pare. Ecco perché io sinceramente non capisco le finalità di questa protesta. Oggi ho letto che una firma, diciamo, da una gazzetta del mezzogiorno, Lello Vecchiarino, su Facebook avanza il sospetto che il Sindaco fosse già a conoscenza dell'imminente arrivo di questo avviso di conclusione dell'imminente criminale e per questo motivo abbia scenato la protesta. Mi auguro che non ci sia nulla di questo, di tutto ciò, anche se per esperienza mia personale so che dalla data del deposito dell'avviso nella Segreteria della Procura, la data della notifica decorre solitamente molto tempo, per cui, diciamo, si può anche arrivare ad avere notizie ufficiose prima delle notifiche ufficiali. Però io non voglio considerare questo. Io faccio altro genere di considerazione, perché il Sindaco non è nuovo ad azioni eclatanti di questo tipo e se ci fate caso, così come ho fatto osservare in altre occasioni, solitamente lei scena nel momento in cui è in difficoltà rispetto ad altre vicende. Il caso è emblematico a mio avviso è l'ingatenamento di quest'estate dinanzi al castello. Ricordate sicuramente tutti il clima che c'era in città per le somme spese per gli eventi estivi che non hanno incontrato per nulla, diciamo, l'interesse della città e quindi c'era molta polemica per questa cosa. Lui si è andato ad attaccare distraendo quindi l'attenzione da quello che stava succedendo. Peraltro abbiamo dimostrato con documenti che era già anche a conoscenza del finanziamento che lì a poco è stato poi comunicato, c'era uno scambio di mezzo alla sovrintendenza per cui, diciamo, anche lì a me passano a buttare. E ho avuto l'impressione in questa occasione, appunto, dello stesso giochino, che peraltro è, diciamo, qualcosa che lui fa anche da un punto di vista dialettico, chi segue i consigli comunali, chi segue gli incontri politici, da un punto di vista dialettico quando è in difficoltà e non sa rispondere su qualcosa come facevamo noi alle interrogazioni, allora la buttavamo su ciò che ci riusciva meglio. E in questo caso, ripeto, io ho l'impressione che il Sindaco abbia voluto distrarre l'attenzione da altre situazioni. Quali sono queste altre situazioni? Beh, innanzitutto c'è tutta la vicenda dei tavolini, delle occupazioni di suolo pubblico nel centro storico che ha interessato l'ultimo mese di vita amministrativa e politica della città. Sabato scorso abbiamo avuto un incontro alla 167, un'ennesima riunione del comitato di quartiere relativamente alle questioni della piazza, diciamo, all'interno appunto del contratto di quartiere e soprattutto si è discusso della causa in piedi tra i proprietari e i comuni. Anche in quella sede il Sindaco ha avuto un atteggiamento contraddittorio perché da un lato ha continuato a dare ragione ai proprietari sulle loro legittime spettative e dall'altro però gli abbiamo fatto osservare che a questo punto il Sindaco avrebbe dovuto porre in essere un intervento da un punto di vista transattivo e lì c'è stato un clima ovviamente molto acceso e c'è un clima nei confronti del Sindaco piuttosto pesante. E poi c'è la vicenda, a mio avviso, che mi ha interessato la questione di alcuni consiglieri comunali, cioè le nomine nell'ambito del comitato di valutazione di impatto ambientale alla provincia di Foggia. Anche su questo io vorrei spendere qualche parola perché questa vicenda appunto secondo me con questo giochino agile è passata un po' in secondo piano. La sapete perfettamente la questione più accesa è quella che riguarda la nomina nell'ambito del comitato via del marito della consigliera Francesca Dio. Ora noi sulla questione del merito dei nominati non siamo intervenuti e non intendo come opposizione, non intendo intervenire io stasera, non dico né che abbiano dei meriti né che non li abbiano perché semplicemente non li conosco, quindi non è questo il tema che mi interessa. Il tema che mi interessa è che quando è venuta fuori la notizia la consigliera Francesca Dio è venuta fuori con un post su Facebook dove ormai ai nomi si svolge principalmente l'attività politica dicendo queste parole. Mi spieghino loro signori dove erano quando le discariche sul nostro territorio sono state autorizzate e soprattutto mi spieghino come intendano vincere certe battaglie se non andandosi a sedere nelle sedi dove queste decisioni si prendono. Questa dichiarazione a me è passata subito piuttosto pesante e vi spiegherò fra un attimo perché. Poi siamo venuti fuori come consiglieri di opposizione con un manifesto leggero su Facebook in piazza e ovviamente lì la polemica è esplosa. La polemica è esplosa tanto che è intervenuto sul punto anche il consigliere comunale e consigliere provinciale Giuseppe Vitta con un lunghissimo post ripreso pari pari dal Sida. In questo post il consigliere Vitta dopo aver fatto l'ascursus delle capacità professionali dei nominati sui quali noi non abbiamo nulla da dire, io non ho personalmente niente da dimostrare, fa questa affermazione forse un po' più grave di quella che ha fatto la consigliere Vitta e cioè dice è un'altra importante vittoria politica utile a difendere il nostro territorio dalle aggressioni degli speculatori ambientali. Ora la riflessione la voglio fare insieme a voi. Uno che parla di vittoria politica evidentemente sta già mettendo in secondo piano la questione dei meriti perché la vittoria politica lascia presagire e lascia presupporre una spartizione politica all'interno della quale appunto chi ha più forza politica poi vince e quindi già questo a me lascia molto perplesso e mi lascia perplesso poi il prosieguo di questo post nel quale si dice che sostanzialmente questo comitato via andrà a costituire un baluardo della città di Lucera contro l'insediamento di nuove discariche e questa è un'affermazione grave a mio avviso così come era grave appena che aveva fatto la consigliera a mio avviso perché voglio ricordare a costoro che il comitato di valutazione di impatto ambientale è un organo tecnico che valuta i progetti relativi all'eolico, alle discariche, ai rifiuti quindi i grandi progetti della provincia. Li valuta da un punto di vista tecnico ed è di supporto del dirigente non è di supporto della parte politica. Quindi nessuno si potrebbe sognare di dire al proprio marito, al proprio compagno, al proprio amico politico, componente del comitato di via, guarda non mi devi far passare quel progetto perché noi a Lucera di discariche non ne vogliamo più. Al di là del fatto che possa essere condivisibile il fine di non volere pure discariche perché ovviamente non ne vogliamo, ma è un'affermazione che non si può fare e che si deduce chiaramente da questi posti. Quindi queste questioni sono passate a mio avviso in secondo piano con l'azione eclatante del sindaco. Ripeto, questo posto è stato ripreso pari pari dal primo cittadino. Ora, siccome la consigliera Niro mi ha anche, non dico minacciato perché non sono minacciato, ma mi ha avvertito e di questa questione vorrà discutere nelle opportune sedi che immagino siano quelle del Tribunale di Foggia, io ripeto non sono un soggetto che intende e a cui piace spostare la contrapposizione politica nelle regole di giustizia, per cui io non farò nessuna denuncia rispetto a queste affermazioni. Però invito la consigliera Niro a questo punto, se ritiene, a denunziare lei me rispetto a queste vicende, io sarò ben felice di rispondere a un soggetto di informazione o qualche altro reato che è la reputa, come dire, integrato dal manifesto che noi abbiamo pubblicato, l'aspetterò dinanzi al magistrato e chiamerò ovviamente a testimoniare sia la consigliera Niro, sia il consigliere Pitt e sia il sindaco perché possano dare conto di queste affermazioni davanti al magistrato. Ripeto, parlare di vittoria politica, a mio piso, e di un baluato contro dei progetti che vanno valutati tecnicamente, a mio piso, sono le dichiarazioni molto gravi. ecco perché io sospetto che tutta questa attività, questa protesta di questi giorni sia stata inscenata dal sindaco per distrarre appunto l'attenzione da queste vicende politiche. Anche perché mi chiedo dove avrebbe mai potuto portare questa protesta? Pensate forse, o pensava lui forse che rimanendo attaccato dinanzi al Tribunale per un mese il Ministero avrebbe messo mano al portafoglio e ristrutturato il Tribunale, la sede dell'ex Tribunale al posto suo? Non lo so, il Ministero a fine settembre dovrebbe lasciare i locali e quindi l'immobile dovrebbe ritornare anche nella disponibilità piena del comune che a quel punto potrà decidere se metterci il giudice di pace, la guardia di finanza o altre cose come ho sentito in conferenza tutti i progetti malissimi. Ma pensate davvero che avrebbe potuto portare a questo? E lui pensava davvero che avrebbe potuto condurre a questo? Io non credo. Diverso sarebbe stato il discorso di una protesta inscenata in maniera eclatante ma finalizzata non solo a porre diciamo in risalto le condizioni in cui versa il mone, ma anche a porre in risalto le condizioni in cui versa il Tribunale di Foggia dal punto di vista della funzionalità giudiziaria e quindi anche in vista della composizione di questo nuovo governo che sembra voglia rivisitare la geografia giudiziaria e rimettere in discussione la possibile apertura del Tribunale. Quella sarebbe stata una protesta ben diversa alla quale probabilmente avremmo, anzi sicuramente avremmo partecipato tutti, visto quello che è successo dopo la chiusura del Tribunale e le conseguenze dal punto di vista economico che la città ha vissuto. Però fatta così a mio avviso non serve, non è servita nulla, ripeto, se non a creare l'ennesimo clamore e a creare il risalto mediatico bisogna riconoscere rispetto a questa cosa il sindaco non ha rivali e è sicuramente molto abile, quindi questo è il punto. Per cui davvero oggi ha annunciato che si è scatenato, prendiamo atto, però ripeto io non vedo davvero dove potesse arrivare, quindi ci teniamo a fare queste precisazioni. Io capisco per certi aspetti anche l'atteggiamento del primo cittadino, lo comprendo perché pensare dove spendere dei soldi per una struttura che non solo non è più nella nostra disponibilità ma che soprattutto costituisce una verità aperta ancora nel cuore della città, una verità che ripeto ha colpito il tessuto economico sociale della nostra città, io lo comprendo da un punto di vista anche umano e politico se vogliamo, però io ritengo che dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista delle responsabilità e con la posizione che ha assunto il Comune di Lucera, indipendentemente da quello che sarà l'esimo nel processo penale rispetto a quale ripeto gli auguro ogni bene, secondo me è sbagliato.